Siamo con il sindaco di Pioraco, Matteo Circoni, sindaco 2016-2019, tre anni dal sisma, cosa è successo tre anni fa e qual è la situazione attuale? Sicuramente, ormai è scontato dirlo, ma l'evento sisma in qualche modo ha stravolto la nostra comunità. Diciamo che abbiamo lavorato molto per la fase emergenziale, quindi vedete le strutture delle SAE, quindi 34 non ne abbiamo e ora quello che tendo a sottolineare è che dobbiamo ripartire con forza e in vigore con la fase della ricostruzione, quindi oramai tutti conoscono come stanno le situazioni e quello che bisogna fare, quindi ora dobbiamo lavorare tutti insieme, devo dire dai cittadini, ma soprattutto tutte le istituzioni unite e compatte per far ripartire in maniera forte e preponderante la fase della ricostruzione, che serve sia la cittadinanza in senso proprio materiale, ma anche in senso proprio spirituale, proprio serve anche un sentimento propositivo dove si vede effettivamente che si inizia a ricostruire qualcosa, quindi la comunità ce n'ha proprio veramente bisogno, quindi una ricostruzione non soltanto delle case, ma anche proprio della società e delle nostre comunità, che sono poi la forza vera e vitale dei nostri borghi e delle nostre città. Sineco, proprio a Pioraco, la cartiera, anche il discorso del progetto della casa di riposo che sta andando avanti e ha ottenuto il finanziamento, sono anche questi dei modi per ripartire e dare linfa alle attività? Sì, assolutamente, le imprese produttive sono la linfa vitale di ogni sistema e di ogni società, quindi dalla più piccola alla più grande. Ovviamente nel nostro contesto, ormai storicamente, quindi da secoli, quindi da oltre quasi mille anni, l'attività più importante del Pioraco è la cartiera, che ha subito un grandissimo danno dopo l'evento sismico e devo ringraziare in questo caso tutta la sinergia dei vari attori che si sono in qualche modo interposti in questa fase, quindi in primis dall'azienda, ma poi anche tutte le istituzioni, la regione e il comune stesso, che hanno prontamente risposto quindi con la rimozione delle macerie e quindi la rimessa in piedi dell'immobile e quindi ovviamente la ripresa dell'attività produttiva che è fondamentale per Pioraco, quindi al di sopra di ogni altra cosa. Come amministrazione pubblica, per quanto riguarda gli immobili pubblici lesionati, abbiamo invece dato la massima priorità alla Casa di Riposo, che ospita 25 ospiti e quindi attualmente sono dislocati nella struttura dell'Asor del comune di Matelica e quindi speriamo di riportarli a Pioraco prima possibile, sia per dare felicità e gioia agli ospiti stessi, ma poi perché comunque, come dico sempre, le strutture che ruotano intorno al sociale, oltre ad essere un servizio fondamentale per la cittadinanza, soprattutto per le aree interne, quindi per le aree montane e anche in qualche modo un volano economico, una risorsa, diciamo una piccola azienda, sia per l'utenza e quindi l'indotto che c'è intorno, ma anche proprio per i dipendenti che lavorano nell'azienda stessa, quindi questo lo dico un po' anche a livello più generalizzato, diciamo, quindi di utilizzare in qualche modo e sfruttare le aree interne anche per potenziare i servizi sociali, che magari, mentre aree della costa, magari possono sfruttare altre situazioni, altri volani economici, proprio quindi anche cogliere l'occasione del sisma, proprio per creare strutture sociali nelle aree interne e quindi dare un altro tipo di modello di sviluppo economico, diciamo. Anche come Presidente proprio dell'Unione Montana, lei ricopre questo titolo e questa Presidenza. Sindaco, dei territori che comunque hanno a che fare con discorsi idrogeologici particolari e che meritano un'attenzione altrettanto particolare? Sì, come Unione Montana tendo sempre a sottolineare che per dare un futuro al nostro territorio è quello di muoverci insieme come territorio, perché come è usuale dire l'Unione fa la forza e niente è più vero come in questo caso, quindi l'insieme dei territori possono mettere insieme varie attività, varie sinergie, ma soprattutto varie opportunità per chi vive qua. In primis la parte del settore turistico, diciamo, che anche qua a Piola come amministrazione ci crediamo molto e cerchiamo di investirci molto. Abbiamo dei territori unici con delle peculiarità eccezionali dal punto di vista paesaggistico, culturale, storico e quindi anche questo è un settore che deve essere in qualche modo valorizzato e potenziato, perché comunque è una risorsa che non possiamo assolutamente perdere. Quindi quest'anno, devo dire, la stagione estiva ha dato un ottimo risultato, un ottimo riscontro e questo ci fa molto piacere perché abbiamo investito molto su questo e quindi devo dire che se in tutto l'anno, diciamo, tante attività oppure tanti servizi riescono ancora a mantenersi è proprio anche grazie all'afflusso turistico che poi riscontriamo ovviamente in maniera più forte nel periodo estivo e quindi questo discorso ovviamente fatto in maniera sinergica, integrata con tutto il territorio quindi montano, sicuramente diventa un'azione mirata più forte e lungimirante, diciamo. Ecco, quindi anche la logica della ricostruzione secondo me deve essere fatta in maniera coordinata, strutturata proprio per dare un futuro al nostro territorio.